Sì, 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 io penso, io penso, vado a tirare il terreno franco dal consigliere, è per lui, è per l'aventamento, viene eliminato da Fili, giusto? Viene eliminato da Fili, sono per la prima volta, viene eliminato da Fili, allora, vede un po' che io, e io mi ricordo, mi ricordo direttamente ai consiglieri comunali, cioè un campo a voti delle persone, pensate in tutto, a un altro giudizio, come, poi mi sono messo a voti delle persone, eccetera, c'è la necessità che il campo venga donato o il senso di carico o il senso di carico, solo dopo, avendo dato il campo, non so leggere, se poi mi arrivai, ma, solo dopo, avendo dato il campo, così come sono, come è venuto fuori, tra gli disegni della maggioranza e dei figli, si può tradurlo, a parte di uno di sorpensione, per cercare di conforre, un passo di diritto da lottare con voi, a voi delle persone. Un po', un po', un po' di dire di ciò, ma più che altro di diritto. di diritto da lottare con voi, e io mi ricordo, e io mi ricordo, e io mi ricordo, e io mi ricordo, che è un po' di diritto da lottare con voi, anche, come dire, da un po' di diritto dell'evento, che condizionà la lavorazione, la, diciamo, la lavorazione, la condizionà, ovviamente, alla, alla lottazione, a stupere con tutto, evidente che lei, nella piena di risposta, può portare in scoplazione il campo, lo stupere, ovviamente, il paffio di un arco, lo stupere, in condizioni, di non poter portare con voi, e, a finire un sito, se ne venga, un po' di diritto, sospende la tenuta, la sospenderà, prenderà la possibilità di comodere l'atto di diritto da lottare con voi. Allora, evidente che però, essendo la scelta, tra di corretti e di corretto, io, la inviterei a fare una riflessione, confusamente, all'attività competente, a testore, che c'era questo. Allora, no? 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 No? Allora, dicenderà, te vuoi esprimistare? Voi, Donا... Poi, poi, andiamo ad una sospensione confrontata di 4-5 per cercare di mettere su un atto del imperativo indirizzo, dopo si ritorna in aula perché ti stanno lavorando il campo sempre del giorno, perché il campo va scontato, non è un atto di indirizzo, atto del imperativo, e il gruppo non propone a niente. Allora il regalamento viene liberato, allora perché la barbara non ci viene la lista. Allora, la barbara è la sospensione la lista. Allora, la barbara è la sospensione la lista. Allora, solo sul regalamento, si vede la lista. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.